Il Tar delle Marche dà ragione alla società Nova Portum. Il giudice ha colto infatti il ricorso della società di costruzione formata da un fondo israeliano e dalla pesarese Renco che da due anni poteva già avere avviato l'edificazione di due torri da circa 80 appartamenti sul terreno dell'abbattuto ex consorzio agrario. Terreno che a fine 2020 fu spianato per un avveniristico progetto bloccato però a febbraio 2021 in seguito a un interprocessuale innescato da una segnalazione della Capitaneria di Porto. Comando di Guardia Costiera che infatti poneva dubbi sulla possibilità di edificazione in area portuale di una struttura non intrinsecamente legata alle attività del porto qual è un complesso residenziale. Da lì sono seguiti 20 mesi di incidente probatorio, il rinvio a giudizio di tre persone con accusa di abuso edilizio, perizie, inchieste penali fino all'individuazione di cavilli burocratici sul piano regolatore. Cavilli che ora il Tar ha interpretato come un refuso sul PRG che diventa una sentenza. Quella del Tribunale che condanna il Comune di Pesaro a correggere quel refuso che impediva la costruzione. Una correzione da operare entro 30 giorni dalla notifica con conseguente convocazione del Consiglio Comunale con tempi e regoli procedurali dell'Assemblea per approvare la variante normativa funzionale al ricorso. Una variazione alla quale il Comune non farà troppa resistenza visto che fu la stessa amministrazione all'epoca a rilasciare il permesso di costruzione poi abortito da questo processo. Potrebbe dunque essere la svolta di una telenovela che può riattivare le ruspe per cominciare ad alzare le torri nel 2023. Grazie.